Con piacere che oggi partecipo alla Summer School, solo sviluppo sostenibile, perché credo sia importante che anche la voce dell'azione del Ministero dell'Istruzione e dell'Università della Ricerca possa essere portata come contributo a tutte le varie lezioni che sono state fatte e soprattutto anche allo scambio frontale con i vari studenti, se così si possono chiamare le Summer School. È molto interessante il fatto che ci siano persone di diversa estrazione tra virgolette professionale, quindi privato-pubblico e questo consente quindi uno scambio a tutti i livelli considerato che lo sviluppo sostenibile è una questione culturale e per questo motivo credo che si debba partire dall'educazione in quanto solo con un diverso metodo di approccio alle conoscenze si può creare una società sostenibile per il presente e per il futuro.